Musica Anche nell'Interland di Milano e Lombardia si conferma il trend del voto di ieri. Centro-destra redivivo, Movimento 5 Stelle al palo e affluenza in calo. Maroni prova ad aprire agli alfagnani, Sala dall'altra parte della barricata spinge perché il modello Milano con un'apertura a sinistra diventi la base dalla quale ripartire. Salvini attacca Renzi. Condanna ad un anno per Fabrizio Corona che alla lettura della sentenza ha esultato in aula. Cadute le imputazioni per intestazione fittizia di beni e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione, Corona resta comunque in carcere per scontare le precedenti condanne in via definitiva, ma i suoi legali sono pronti a presentare un'istanza per un nuovo affidamento in prova ai servizi sociali. Sono almeno 25 i colpi dei quali sono accusate le tre persone arrestate oggi dai carabinieri di Milano, banche ed esercizi commerciali per un bottino totale di circa 200.000 euro, identico il modus operandi che prevedeva l'utilizzo di maschere in lattice durante le rapine. Pronti due vincoli distinti per l'area dell'ex ipodromo, la sovrintendenza avrebbe intenzione di porre stretti limiti per la zona delle scuderie, mentre di agire in maniera più morbida rispetto alla pista dell'ex trotter, Palazzo Marino punta a trovare una soluzione che salvaguardi la destinazione dell'area ad attività di sport e tempo libero. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il TGN. Si parte ovviamente dalle elezioni, quelle di ieri, lo scrutinio è ormai ultimato e anche nell'area milanese e in Lombardia si conferma il trend, si confermano i punti salienti di questo voto, cioè la flessione del Movimento 5 Stelle, la scarsa affluenza ai seggi e il buon risultato del centrodestra. Il governatore Roberto Maroni chiede che Lombardia Popolare, cioè sostanzialmente gli alfaniani, aiuti il centrodestra ai ballottaggi. Per il sindaco Sala, parlando di centrosinistra, invece deve essere esportato il modello Milano, quindi con quell'apertura del PD alla sinistra, insomma, la sua sinistra. Per Matteo Salvini, invece, se c'è uno sconfitto, quello è proprio l'ex premier Matteo Renzi, il servizio di Alberto Carreras. Affluenza in forte calo, Movimento 5 Stelle fuori da tutti i maggiori ballottaggi, centrodestra in ripresa. Questo in estrema sintesi quanto emerso dalle urne dopo lo scrutinio dei voti per le elezioni comunali in Lombardia e nell'area metropolitana milanese. Nei tre capoluoghi di provincia, Monza, Como e Lodi, si andrà al ballottaggio tra candidati del centrosinistra e quelli del centrodestra. A Monza un testa a testa tra Dario Allevi, del centrodestra, che ha messo a segno un notevole recupero, e il sindaco uscente Roberto Scanagatti, del centrosinistra. A Como l'affluenza è rimasta sotto il 50%. Anche in questo caso notevole recupero del centrodestra, con Mario Landriscina, che andrà al ballottaggio col candidato del centrosinistra, Maurizio Traglio. A Como il candidato dei 5 Stelle, Alessandro Rappinese, ha raccolto più del 22% e dunque i suoi voti saranno determinanti tra due settimane. A Lodi il centrosinistra, con Carlo Gendarini, sarà al ballottaggio contro la sfidante del centrodestra, Sara Casanova. Come noto il comune era commissariato. A Sesto San Giovanni, dove c'era grande attesa per i risultati, l'attuale sindaco Monica Chittò, del centrosinistra, andrà al ballottaggio contro Roberto Di Stefano, del centrodestra. La Chittò ha ottenuto meno consensi del previsto e tra due settimane ci sarà una dura battaglia perché molti prevedono un incremento a favore del candidato del centrodestra. Per Pietro Bussolati, segretario metropolitano, il Partito Democratico è nettamente il primo partito della città metropolitana. Per Pierfrancesco Maiorino, assessore della giunta sala, il PD da solo assolutamente non basta e ha bisogno di molto di più di se stesso. Se c'è uno sconfitto e Renzi ha tuonato il leader della Lega Matteo Salvini. Adesso è terminato il primo tempo, ora c'è il secondo da giocare e vincere. Lavoriamo al progetto nazionale, alla faccia di quei fenomeni che dicevano che la scelta nazionale ci avrebbe penalizzato. Faremo di tutto per avere una coalizione compatta, ha sottolineato Salvini. Per la coordinatrice lombarda di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, il centrodestra è vivo, vitale e pronto a governare. Col modello di centrodestra unito, il modello di Berlusconi si vince, al di là delle differenze che abbiamo con Salvini e Lammeloni. Il governatore lombardo Roberto Maroni lancia la richiesta a Lombardia Popolare che ai ballottaggi si schieri con i candidati del centrodestra. Per il sindaco Giuseppe Sala, la strada per sconfiggere Maroni alle regionali è difficile. La sinistra deve rimanere unita come nel modello Milano. La sconfitta dei 5 Stelle è evidente, ma se fossi nei partiti tradizionali ha ammonito Sala, non canterei vittoria. Alcune curiosità abbiamo sentito dalla voce di Carreras, cos'è successo nei tre comuni capoluogo, cos'è successo a Sesto San Giovanni che è quello politicamente rispetto all'Interland di Milano più importante evidentemente, però ci sono alcune curiosità. Già a urne chiuse, a urne aperte scusate, alle 19 di ieri, due piccoli comuni della provincia di Brescia avevano già un sindaco, Fabio De Pedro a Paspardo e Massimo Mattei a Provaglio Valsabbia. Entrambi erano gli unici candidati per la carica di primo cittadino, quindi è bastato superare il quorum dei votanti per essere matematicamente eletti. A campione d'Italia invece torna sindaco Roberto Salmoiraghi con il 100% delle preferenze. La sua lista Insieme Possiamo è infatti stata l'unica a candidarsi alle elezioni. Cambiamo argomento, andiamo a Palazzo Isimbardi perché c'è un buco enorme di 70 milioni e il bilancio dovrà essere approvato entro il 30 di giugno, dopo domani praticamente. Il rischio fallimento per la città metropolitana di Milano è concreto e i consiglieri chiedono l'intervento immediato di Palazzo Chigi e sono addirittura pronti alle dimensioni in massa per sottolineare che c'è un'esigenza assolutamente impossibile da non avere risposta, insomma, il servizio. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Roma ne ha parlato con il governo e anche col segretario del PD Matteo Renzi. La situazione della città metropolitana è disastrosa dal punto di vista finanziario e se non ci saranno interventi immediati si rischia il fallimento. All'orizzonte c'è anche la possibilità di dimissioni di massa da parte dei consiglieri per dare un segnale forte a chi deve capire e cioè l'esecutivo di Paolo Gentiloni. Entro il 30 giugno bisognerà presentare il bilancio e i conti non tornano, presentano un buco di 70 milioni di euro. Se una cifra di tale entità venisse trascritta nel conto economico non ci sarebbe alternativa al fallimento e dunque bisogna urgentemente correre ai ripari e si spera che Roma possa intervenire rapidamente. Tra l'altro, oltre al problema principale di vedere a gambe all'aria una nuova importante istituzione, secondo la legge i consiglieri di un ente in dissesto finanziario non potranno più candidarsi ad altre cariche amministrative per tre anni e questo ovviamente crea imbarazzo e malumore tra i consiglieri metropolitani che sono stati eletti con il sistema elettorale di secondo livello e cioè non direttamente dai cittadini ma dai consiglieri comunali di tutta l'area metropolitana. Il buco di 70 milioni di euro nasce dalla legge che impone che la città metropolitana versi alla capitale 165 milioni di euro sui 400 incassati. Da più parti è stato sottolineato che se questa cifra non dovesse essere versata allo Stato le casse sarebbero inattivo, addirittura di un'ottantina di milioni. Secondo molti una vera beffa contabile. La città metropolitana deve occuparsi di scuole, manutenzione delle strade, idroscalo e altro ancora. Ci sono poi 30 lavoratori precari la cui attività è determinante ma ogni sei mesi sono costretti a protestare per vedersi rinnovato il contratto. La vice sindaco Arianna Censi spera che all'ultimo il governo ponga rimedio altrimenti potrebbero scattare le dimissioni di massa. L'ampia pagina della cronaca adesso che si apre con la condanna di Fabrizio Corona. Un anno dal Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza nel processo con al centro circa 2 milioni e mezzo di euro in contanti trovati in parte in un controsoffitto in parte in cassette di sicurezza in Austria. L'ex agente fotografico era stato nuovamente arrestato lo scorso 10 ottobre mentre era in affidamento, in prova ai servizi sociali. Il collegio, presieduto da Guido Salvini, ha anche condannato a tre mesi la collaboratrice di Corona, Francesca Persi. Corona ha esultato in aula, come vedete in qualche foto, battendo i pugni sul tavolo e dicendo sì, giustizia è fatta alla lettura del provvedimento. Sono cadute due imputazioni, l'intestazione fittizia dei beni in relazione ai soldi in contanti e la violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. L'ex agente è stato condannato solo per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e per questo è stata revocata la misura cautelare. Corona tuttavia resta in carcere per scontare i circa cinque anni restanti di cumulo delle pene definitive, anche perché lo scorso novembre, dopo l'arresto, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali. I legali di Corona, gli avvocati Ivano Chiesa e Luca Siritti, tuttavia, hanno già preannunciato che presenteranno un'istanza per la concessione dell'affidamento in prova che potrebbe far uscire dal carcere l'ex re dei paparazzi. Utilizzavano maschere in lattice mentre facevano le loro rapine. Almeno 25 i colpi messi a segno tra banche ed esercizi pubblici nella zona nord dell'Interland milanese con un bottino di oltre 200 mila euro. Tre persone sono state arrestate stamane dai carabinieri di Milano. Il servizio. Tre rapinatori, cosiddetti della banda della maschera di lattice, sono stati arrestati dai carabinieri di Milano. Sono tre italiani, uno di 25 anni, Claudio Viotti, già agli arresti domiciliari. Gli altri due sono fratelli, Iari e Davide Graziano, di 26-28 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio, sequestro di persona, rapina, furto e ricettazione. Nel novembre 2015 due di loro, i più giovani, spararono sei colpi di pistola contro un carabiniere, ferendolo a un fianco nel corso di una rapina in una banca di Cornaredo in provincia di Milano. Gli arresti sono giunti al termine di una lunga indagine, condotta su tutta una serie di rapine a mano armata, almeno 25 colpi, che hanno fruttato oltre 200 mila euro di bottino ai danni di istituti bancari e esercizi pubblici, soprattutto nella zona nord dell'Interland milanese. Commesse queste rapine dalla fine del 2014 con modalità sempre molto simili. Il viso coperto con maschere in lattice, sempre armi in pugno, giubbotti antiproiettili indossati sotto gli abiti e poi la fuga a bordo di moto di grossa cilindrata, a loro volta rubate. I carabinieri nel corso dell'indagine hanno intercettato numerose conversazioni. Tra queste, una tra due esponenti della banda. Uno diceva all'altro, me l'hai ordinata la faccia, prima di fare il lavoro dobbiamo prendere un'altra maschera, dobbiamo cambiare box e bruciare le cose vecchie. In un'altra conversazione due malviventi parlano dei proiettili sparati contro il carabiniere. Sei botti gli ho tirato, aveva già pensato a tutto. Il primo lo secco al volo e l'altro lo piglio a tiro. In un'altra circostanza uno dei rapinatori parla della fuga dopo un colpo e della fortuna per aver evitato un omicidio. Ho fatto l'incidente a Bonola, sorpassando l'autobus, acchiappando la vecchia. Meno male che non è morta. E il compagno risponde che non sarebbe stato un problema dicendo chi se ne frega se moriva. In un box sono stati trovati 900 grammi di cocaina e 800 grammi di marijuana. Recuperate anche due pistole e un fucile calibro 12. I giudici del Tribunale di Milano hanno condannato Emilio Fede a tre anni e mezzo di carcere per concorso in bancarotta nell'ambito della vicenda legata al fallimento della società di Lele Mora che ha già patteggiato e del presunto dirottamento a suo favore di 1.100.000 euro della somma stanziata da Silvio Berlusconi per salvare la società dell'ex Talent Scout. I giudici hanno dunque stabilito una pena più alta di quella chiesta dal pubblico ministero milanese Eugenio Fusco che alla terza sezione penale aveva chiesto tre anni di carcere per l'imputato. Fede, secondo le indagini, avrebbe portato Mora ad Arcore premendo su Berlusconi perché gli concedesse un consistente prestito e appena il denaro veniva erogato chiedeva il 40% del denaro per sé. Quel finanziamento, aveva detto il PM, sarebbe servito per sanare la disastrosa situazione in cui versava l'impresa di Mora. Quei denari non dovevano essere dirottati in parte a Fede per i suoi buoni uffici presso Berlusconi. Non ne aveva diritto, questo nella requisitoria che ha preceduto poi la sentenza di condanna per Emilio Fede. Torniamo a Milano, al suo futuro urbanistico perché la sovrintendenza sta pensando a due vincoli per l'area dell'ex ipodromo del trotto a Milano. Un vincolo strettissimo per le scuderie e un altro un po' più morbido per l'area della pista dell'ex trotter. Gli immobiliaristi da tempo hanno messo gli occhi su un'area particolarmente ricca per la costruzione di immobili di pregio ma Palazzo Marino vorrebbe che la zona restasse destinata allo sport e al tempo libero. In servizio. Un doppio vincolo per proteggere l'ex ipodromo del trotto. Sembra essere questa la strada scelta dalla sovrintendenza milanese per prendere una decisione definitiva su quelle che potranno essere le sorti di quest'area verde. Le scuderie avranno un vincolo diretto, una specie di monumento storico. In pratica sarà impossibile abbatterle o ricostruirle. Sulla pista, che ormai è stata dismessa, avrebbe posto un vincolo meno stringente, denominato indiretto, che lascerebbe spazio a possibili edificazioni. Ma il tutto, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrebbe ottenere il via libera proprio da parte della sovrintendenza. Insomma, sia le costruzioni, ma con precisi criteri e precise volumetrie e ingombri. I residenti della zona avevano protestato nelle scorse settimane, dopo la bocciatura del vincolo per l'ex trotto, da parte della Commissione regionale alla quale era stata indirizzata la richiesta dell'Associazione Italia Nostra. Gli abitanti sono preoccupati per la possibile colata di cemento che snaturerebbe tutta la zona. Per giungere a una conclusione, secondo gli esperti, saranno necessari almeno sei mesi di tempo. L'area è strategica, immersa nel verde, e per gli immobiliaristi sarebbe un boccone davvero ghiotto per realizzare residenze di pregio. Palazzo Marino da sempre vorrebbe giungere a progetti che prevedano sport e verde pubblico a due passi dallo stadio Meazza. Insomma, la vocazione della zona dovrebbe restare sportiva e per il tempo libero. La SNAI, proprietaria di tutta la superficie, vorrebbe, come ovvio, monetizzare al massimo. La partita, dunque, è più che mai aperta. Una notizia che arriva dall'Assemblea Generale di Asso Lombarda, che si è tenuta questa mattina in seduta privata, e ha eletto Carlo Bonomi, presidente dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo comunica una nota che precisa essere confermata anche la squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale, tenutosi lo scorso 9 maggio. L'Assemblea è proseguita poi dalle 11 in seduta presso il teatro alla Scala. Dopo i saluti del sindaco di Milano Giuseppe Sale e del presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, il presidente Carlo Bonomi ha tenuto la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. ha parlato anche di elezioni, ha detto attenzione ad andare a votare la precedenza vadata alla ripresa economica. Siamo solo presi a servizio del popolo di Dio, lo ha detto il cardinale Scola, i nove nuovi sacerdoti ambrosiani già da oggi impegnati nelle parrocchie cui sono stati destinati. Noi abbiamo ascoltato l'unico che resterà in città a Milano, lo ha fatto per noi Anna Maria Braccini. Nove giovani uomini che da 48 ore hanno iniziato il loro cammino di sacerdoti, di preti ambrosiani, andranno in diverse zone della diocesi, dalla campagna aperta dell'Abrianza Lecchese al Varesotto. Solo uno resterà a Milano, in periferia, in una periferia non facile oltretutto. Davide Brambilla, 28 anni, nato nella parrocchia San Giuseppe di Cinisello Balsamo e dopo una laurea in Scienze dei Beni Culturali e sei anni di seminario, approda la parrocchia di Santa Maria Annunciata, appunto, in Chiesa Rossa. Andrai e sei in una periferia non facile, Chiesa Rossa, case popolari, sei già inserito nella tua destinazione, come ti trovi? Chiesa Rossa è l'ambiente giusto per me. È sì un quartiere difficile, un quartiere diviso, con tante etnie, con tanta povertà, che già in questi primi nove mesi ho potuto sperimentare. Ma è il posto dove il Signore mi ha mandato e quindi è quello a cui sono chiamato ad essere e a fare. E so che posso fare del bene a Chiesa Rossa, ma soprattutto Chiesa Rossa la sta facendo per me e mi sta convertendo molto. È vero che sei un grande esperto di cinema? Sì, ho studiato qualcosina nei miei anni di università e poi anche negli anni di seminario mi è stata data l'occasione di sperimentare questa passione, appassionando anche gli altri con qualche cineforum. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Dopo di noi ovviamente le previsioni del tempo come al solito e poi Nova Stadio Sprint. Ieri a Nova Stadio abbiamo dato la notizia dell'arrivo della firma di Andrei Silva come nuovo giocatore del Milano. Oggi è stato il suo primo giorno a Milano con le visite mediche, con l'annuncio ufficiale di questo ed altro, di mercato soprattutto, comunque parleranno Luciano Rindone, il suo ospite, che questa sera sarà Enzo Gambaro. Poi alle 20.30, linea d'ombra estate, in conduzione sempre Adriana Santa Croce, ovviamente si parlerà delle elezioni comunali, delle amministrative che si sono tenute ieri, si faranno alle varie valutazioni. Dalle 20.30 alle 21.40 i due ospiti saranno Pietro Tatarella e Diana De Marchi, si confronteranno loro due sull'esito del voto e non solo. E poi dalle 21.40 alle 23 Luca Procaccini di Fratelli d'Italia e Beatrice Uguccioni del Partito Democratico. Grazie davvero per averci seguito, buona serata sugli schermi di Telenova. Grazie a tutti. Grazie a tutti.